È stata una partita difficile, questo sicuramente lo sapevamo, ma ovviamente in questo campionato sono tutte difficili. Ci abbiamo provato, forse siamo stati un po' troppo frettolosi già dall'inizio, però i ragazzi hanno provato, ci hanno messo tanto e purtroppo non si è riusciti a trovare il guizzo vincente che sicuramente poteva rompere gli equilibri e poi dovevo trovare qualche spazio in più, però non siamo stati capaci a trovarlo, abbiamo fatto un po' anche di confusione, poi quando siamo rimasti in dieci perché cercavamo sempre di andare avanti, dovevamo stare un po' più tranquilli, avere quella tranquillità giusta, però i ragazzi ci hanno messo tutto e ovviamente la responsabilità è per, sotto questo punto di vista, cercare di dare più calma ai ragazzi in quel momento, ovviamente la mia, dovevamo cercare di girare più a palla e invece siamo stati un po' troppo frettolosi. La partita è stata condizionata da questi episodi, vedi l'espulsione, con un uomo in meno, sono venuti meno i dettami tattici e tecnici, però è emerso un grande cuore, un grande cuore di questo gruppo che alla fine è a denti stretti, con un pizzico di fortuna, vedi la traversa colpita dal tambo, è riuscito a portare in porto un risultato che a noi dà tanto ossigeno, visto la nostra situazione in classifica.